Continuando i controlli dei NAS su rispetto dell'obbligo del Green Pass per l'accesso ad attività e servizi, ad oggi spezzonate oltre 12.000 attività ed esercizi, contestate 778 violazioni, delle quali 428 aiatori di lavoro. Applicate 350 azioni nei confronti di clienti ed utenti, 68 contestate a dipendenti impegnati e privi di certificato verde. Controllate anche 1.200 tra farmacie e ambulatori d'analisi, sanzionati 42 gestori per omesso utilizzo di dispositivi di protezione individuale e l'applicazione dei prezzi dei test superiori a quelli calmerati.